Ciao a tutti, continuiamo a parlare di moti relativi, di trasformazioni di Galileo e vediamo le trasformazioni di Galileo per la velocità. Abbiamo visto quelle per la posizione, ci sono quelle per la velocità, non per l'accelerazione perché stiamo parlando di sistemi di riferimento inerziali per cui i sistemi di riferimento o sono fermi o si muovono di moto rettilineo uniforme. In questo caso c'è sempre un osservatore fermo in stazione, c'è sempre il treno che passa come abbiamo visto nell'esempio precedente, ma qui il passeggero che prima era fermo si sta muovendo con una sua velocità, qui indicata con v'. La velocità del passeggero per l'osservatore fermo in stazione, quindi per il sistema di riferimento bianco, sarà la somma di v' più la velocità a cui sta andando il treno. È una somma vettoriale. In questo caso, dal momento che le due velocità sono nello stesso verso, anche per i moduli sarà una somma. E da qui ovviamente possiamo determinare quanto vale la velocità del passeggero v'. Facciamo un esempio. Un treno viaggia a 10 metri al secondo e un passeggero cammina a un metro al secondo, secondo questa rappresentazione, quindi si sta muovendo nello stesso verso del treno. Qual è la velocità del passeggero per un osservatore fermo in stazione? Abbiamo detto che per noi la velocità lungo l'asse x, perché stiamo considerando solo l'asse x, del passeggero sarà data da 1, che è la velocità del passeggero rispetto al suo sistema di riferimento rosso, che è il sistema di riferimento del treno, più la velocità a cui sta viaggiando il sistema di riferimento, quindi la velocità del treno. Per noi osservatori che vediamo passare il treno con il passeggero che sta camminando, questo passeggero sta viaggiando a 11 metri al secondo. Ma ora cambiamo leggermente il problema. Il passeggero sta viaggiando in verso opposto rispetto al verso di marcia del treno, sempre con la velocità di un metro al secondo e il treno sta sempre viaggiando a 10 metri al secondo. Quale sarà adesso la velocità del passeggero per un osservatore fermo in stazione? Vi ricordo, per l'osservatore fermo in stazione vale il suo sistema di riferimento bianco, mentre per il passeggero vale il sistema di riferimento rosso. Beh, a questo punto, dal momento che si tratta di grandezze vettoriali, il verso di v' è opposto rispetto al verso di v. Quindi se noi consideriamo positivo lo spostamento verso destra, la velocità che noi assegniamo al passeggero sarà data da meno 1, perché la velocità è in verso opposto, più 10 e quindi 9 metri al secondo. E allora dopo aver visto un caso unidimensionale, se siamo nel caso generale, quindi nel piano, abbiamo una componente x e una componente y, qui sono indicate le trasformazioni di Galileo per la velocità. v'x uguale a vx meno v grande x, dove con v grande x e v grande y ho indicato la velocità del sistema di riferimento nella direzione x e nella direzione y. Spero che questo video vi sia stato utile, non dimenticate di lasciare un like, di condividere l'esistenza del canale. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao!